piano piano più piano possibile diciamo un movimento in tre secondi bravissimo questo sì bravo questo questo sì è quello che fa invece con questa pizzettina di attrezza avete bisogno da pensare cosa faccio il prossimo momento tra una seconda cosa farò bravissimo e subito devi spingere avanti guarda se è uscito e spingi avanti uscito e avanti si vede lui inclinato invece meglio quando ti giri così in questo modo sì bravissimo sì piano 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 qua abbiamo bisogno da lavorare più piano possibile piano piano